Abbiamo partecipato a My Revolution, un progetto internazionale che coinvolge giovani in iniziative di cittadinanza attiva. My Revolution è un progetto finanziato dall'Unione Europea e realizzato in quattro paesi diversi, in Polonia, in Austria, in Slovenia e in Italia. In Italia è realizzato dall'organizzazione We World GVC Ollus in partenariato con il Comune di Polonia. Il perché si è scelto il periodo storico del 68 è perché il progetto My Revolution rientra in quel programma europeo definito Europe for Citizen, il cui obiettivo è quello di stimolare i giovani ragazzi più o meno dai 15 ai 20 anni ad analizzare la realtà in cui vivono, prendendo come spunto determinanti momenti storici. Il progetto prevede due fasi, una prima fase a livello nazionale dove i ragazzi parteciperanno a dei workshop nei quattro paesi implementatori del progetto. Qui in Italia si è deciso di creare dei workshop utilizzando strumenti artistici quali il video e la musica. L'obiettivo è analizzare quello che è successo nel 68, come i giovani hanno partecipato al movimento del 68, per stimolare appunto i ragazzi ad essere critici nei confronti della realtà odierna. La seconda fase del progetto prevede infatti due meeting transnazionali, una a Vienna e una a Cracovia, dove i ragazzi assieme ai loro coetanei provenienti dagli altri tre paesi creeranno un vero e proprio manifesto con richiesta di cambiamento che presenteranno insieme ai parlamentari europei a Bruxelles. Ho scelto di partecipare a questo progetto perché sono interessato a cambiare delle tematiche che attualmente non mi vanno bene, ad esempio sull'ambiente, che adesso non ci rendiamo conto di quanto sia grave, però nell'immediato futuro questo comporterà un disastro ambientale e non voglio che succeda. Per me Rivoluzione sono tanti ragazzi con dei background diversi e che però collaborano per lo stesso obiettivo che ha accomunato sia i ragazzi di oggi che quelli del 68, un sistema più equo che vede la collaborazione di persone con differenti interessi che però vogliono tutti una stessa cosa, ovvero l'uguaglianza, la sostenibilità ambientale o che comunque riescono a collaborare per gli obiettivi altrui. Per me questa è la rivoluzione. Grazie. 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 Grazie.